no e lo di un altro ecco libri da fonte sono un amico di alex marco aspettare un certo di parti e di titico genio alza parte un brovo e vuole invitare che non ha fatto il porto cosa c'è del scambi vero e non ti chiami ma matteo c'è la salva al mondo e ripentando la mia piccola per scambi amato darmi permettito di l'altra cosa è una fallista l'idea scambiare un attimo e non ma quando è nata lo sponso qua dentro allora vuoi scambiare per me sì scambi scambiare per un ammontizzare 130 scavolta 130 per notturno 130 metti che indivano però non truffi e mi interessa l'ultimo ti fermo subito qui perché non è uno lo scambio ammazzabietti 130 poi scambio dentro bulldozer 106 cicuta 106 ma la chita si non stacca dimmi quanto ne vuoi 100 ti vanno bene in realtà lo sta qui per rientra no tutto lo stagione così no un'arma l'82 l'ha portato di ossa d'asca posto che ok con le due per uno strana ma la promettici uno vicino dopo sta roba inutile cosa prendere nel quarto sì sì quindi tutti allora uno stock di mala che metteci uno vicino che è così staglia nato è proprio vicino che non è proprio cosa ma la vita sanita e come raga ma la mette a vero spazio per uno stacchi magazzino quando tre di con gli uniti diciamo o matti questa buona è ma la mala su un modo di sempre ancora tempo di tavolato perché non questa sbagliata che ha fatto scordi tempeste direttamente questa qua non fa direi buono fatti scordi tempeste ma ti fammi vedere il tuo inventario qua c no problem c questo mezzo marco togli marco perché devo fare dell'inventario non solo uno stacchi è molto bevendata ma come faccio se era un vicino uno stac bro non ho troppi lo per salvare al 50 se metto 200 qui sono gli unici 200 quindi vuoi scambiare proprio malachita non citturano qualcos'altro se ci fai non c'è la mazzabietti non lo vuoi proprio malachita se vuoi devo aggiungere non lo vedo se ti metti davanti non lo vuoi 130 facciamo un'arma per arma se prima scambiamo nocturno e mazzabietti poi malachite paura da me uno di malachitetto d'oro poi andrà scambiare le armi mazzabietti 130 a mia full vita un'altra cosa va bene tutto e si rimane dove vado ok truffatore di merda ma che cazzo ma che cazzo fai lo scatto e ma c'è il 103 bimbo merda a quanto ve lo dava 58 e scambiare serio ora da mila mazzabietti lo scambio se scambi c'è scambi serio da mila mazzabietti no per l'evento se spazio di marghi cammina mazzabietti che scambi serio blu ridammela scambi prego è perché tu vuoi scambiare serio non mi fido io con truffatore no da mila mazzabietti cosa sono dopo uno scambi serio un attimo che mi grazie dalle mazzabietti mappure allora prima adesso fai vedere armi vere che scambi che sono realmente adizioni 106 posso avere la sfida vabbè vabbè finisimo più vai te li do lo so imbazza più chiami i pesci non lo so quando lo screen però non voglio scambiarlo non sono nato ieri e l'occhio è quello che ti metteva la vita dietro vorrei un coraggio ma non è presente no a questa operazione è un po di resistenza per la teglia esistenti cosa non è stato detto se lo troppo so che tanto fai lo scatto lo scatto e lo scatto all'indietro devo andare dietro facciamo sì perché vuoi bro fai così voglia indietro prima roba giorno coglionazzo anche truffatore del cazzo guarda ti vedi bro ma se non sei davvero difficile di essere un truffatore non mi lasciare neanche la modifica non ti vede quanto sei brutto però sei brutto è truffata un milano marco marco vedrò dimmi in faccia dimmi in faccia dimmi in faccia cosa come faccia l'apparizione andrea è 106 faccia dimmi in faccia dimmi in faccia dimmi in faccia se vuoi ho l'inchiodatore no da che progetti ora questo è utile perché inchiodo ti mettevi una due due no allora poi c'è da neanche di scala fosse non è che lì da tipo guarda 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 come scala questo che mi sta neanche lì da non l'idea non trovo voglio a fare guarda come scava se non truffi magari troppo non divenire di tu tanto so che se un truffatore su ho messo pure la scala beh questo seno truffatore perché ti avrei arrivato insomma sento un truffatore potenzi sei tanto vip si vip quanto vip 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 il cazzo allontanatevi per scambio come un modificato il testo 630 e saranno al 30 vorrei vincere a quanto va ok aiutami se ne devono andare alla venda è via non troppo se non se ne vanno ok Vado? Vado? Apro? Oh Marco! Marco vai prendere la mia arma! Lo so Io adesso ho detto Tutto 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 ti ha truffato Avanzapietto 82 Andre Andre, Andre che è stata presa Avanzapietto 82 Vigagliela No Vigaglia Ha fatto l'olestore 82 Eh si truffano Ma non sei chi Sei un coglionazzo Figlio di profano, ne basta Ti metti a copiare per il carpeto bimbo merda Si Ok 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 Grazie a tutti